prima del matrimonio s'erano amati d'un amore casto celestiale era stato da principio un incontro gentile su una spiaggia davanti all'oceano lui l'aveva trovata deliziosa quella ragazza rosea che passava con i suoi ombrellini chiari e i suoi vestiti freschi sul grande orizzonte marino l'aveva amata bionda e fragile in quella cornice di onde azzurre e di cielo immenso e confondeva la tenerezza che quella donna appena sbocciata gli aveva ispirato con l'emozione vaga e possente che destavano nel suo animo nel suo cuore e nelle sue vene l'aria viva e salsa e il vasto paesaggio pieno di sole e di onde e lei lo aveva amato perché le faceva la corte perché era giovane abbastanza ricco gentile ed educato aveva amato perché è naturale che le ragazze amino i giovanotti che dicono loro parole tenere allora per tre mesi erano vissuti uno accanto all'altra gli occhi negli occhi e le mani nelle mani il saluto che si scambiavano la mattina prima del bagno nella frescura di un nuovo giorno e l'addio della sera sulla sabbia sotto le stelle nel tepore della notte calma mormorati sottovoce sottovoce avevano già un sapore di baci sebbene le loro labbra non si fossero mai sfiorate appena addormentati sognavano uno dell'altro appena svegli si pensavano e senza ancora dirselo si invocavano e si desideravano con tutta l'anima e con tutto il corpo dopo il matrimonio si erano adorati con amore terreno era stata da principio una specie di furia sensuale e inesauribile poi una tenerezza esaltata fatta di poesia palpabile di carezze già raffinate di invenzioni gentili e spudorate tutti i loro sguardi significavano qualcosa di impuro ogni loro gesto bastava ad evocare la calda intimità delle notti adesso senza confessarselo forse senza comprenderlo ancora cominciavano a stancarsi l'uno dell'altra si volevano bene ma non avevano più nulla da rivelarsi nulla da fare che non avessero già fatto molte volte più nulla da imparare neppure una parola d'amore nuova uno slancio imprevisto un'intonazione che rendesse più ardente il verbo ben noto e tanto spesso ripetuto si sforzavano tuttavia di ravvivare la fiamma indebolita dei primi amplessi e scogitavano ogni giorno tenere astuzie giochi e monellerie ingenue o complicate tutta una serie di tentativi disperati per far rinascere nei cuori l'ordore inesausto dei primi giorni e nelle vene la vampa del mese nuziale ogni tanto a forza di stimolare il loro desiderio ritrovavano un'ora di passione fittizia ma subito sopravveniva la stanchezza e il disgusto avevano provato i chiari di luna le passeggiate nella dolcezza della sera e la poesia dei prati intrisi di rucciada l'eccitazione delle feste pubbliche una mattina Henriette disse a Paul vuoi portarmi a cena in un ristorante ma sì tesoro in un ristorante molto rinomato ma certo la guardava le interrogava con gli occhi vedendo bene che lei pensava a qualcosa che non voleva dire lei disse ancora sai in un ristorante com'è spiegarti in un ristorante un po' equivoco in uno di quelli da appuntamenti lui sorrise sì capisco nella saletta riservata di qualche grande caffè ecco sì ma di un grande caffè dove tu sia conosciuto dove tu sia già stato a pranzo no a cena insomma sai insomma vorrei no non oserei mai confessartelo dillo cara tra noi cosa importa non ci sono piccoli segreti no non oserei proprio andiamo non far l'innocentina dimmelo ebbene ebbene vorrei che mi credessero la tua amante ecco e giovanotti che non ti sanno ammogliato mi guardassero come la tua amante e tu pure mi credessi la tua amante per un'ora in quel luogo dove hai certo tanti ricordi ecco e lo crederei anch'io da essere la tua amante commetterei una grave colpa ti tradirai con te ecco è molto brutto non mi fare arrossire sento che divento rossa non immagini come come mi sentirai turbata cenando così con te in un locale poco per bene in un salottino privato dove fanno l'amore tutte le sere è orribile sono rossa come un papavero non mi guardare lui rideva divertendosi molto e rispose sì andremo questa sera in un posto elegante dove mi conoscono verso le sette salivano la scala di un grande ristorante del boulevard lui sorridente con l'aria da trionfatore lei timida velata felice appena entrati in una saletta arredata con quattro poltrone e un gran divano di velluto rosso comparve il proprietario in abito nero e presentò loro la lista Paul la porse a sua moglie che cosa vuoi mangiare ma non so quello che si mangia qui allora lui declamò la litania dei piatti mentre si toglieva il soprabito consegnandolo nelle mani del cameriere poi disse menù consistente zuppa di gamberi pollo alla diavola lombo di lepre aragosta all'americana insalata mista ben condita di spezie e frutta berremo dello champagne il padrone sorrideva guardando la giovane donna riprese la lista morborando il signor Paul vuole il vino della casa o champagne champagne molto secco riet fu felice di sentire che quell'uomo sapeva il nome di suo marito sedettero molto vicini sul divano e cominciarono a mangiare dieci candele li illuminavano riflesse in un grande specchio offuscato da migliaia di nomi incisi col diamante che facevano sul lucente cristallo una fitta tela di ragno Harriet beveva un bicchiere dietro l'altro per animarsi sebbene già si sentisse stordita fin dalle prime coppe Paul eccitato dai ricordi baciava ogni momento la mano della moglie gli brillavano gli occhi si sentiva stranamente turbata in quel luogo sospetto la donna agitata contenta un po' infangata ma vibrante due camerieri gravi muti avezzati a vedere tutto e a dimenticare tutto a entrare solo quando era necessario e a uscire nei momenti di effusione andavano e venivano rapidi e silenziosi verso la metà del pranzo Harriet era brilla completamente brilla e Paul messo in allegria le premeva forte il ginocchio chiacchierava lei adesso ardita con le guance rosse lo sguardo lucente e languido su vediamo Paul confessati vorrei sapere tutto sai cosa mia cara non mi riesce di dirlo di pure hai avuto delle amanti molte prima di me lui esitava un poco perplesso non sapendo se dovesse nascondere le sue avventure o vantarsene lei riprese te ne prego dimmi ne hai avute molte ma qualcuna quante non lo so io come si possono sapere queste cose non le hai contate ma no allora ne hai avute molte ma si quante pressa poco solo pressa poco ma non lo so affatto mia cara certi anni ne ho avute tante altri meno quante all'anno dimmi a volte venti o trenta a volte quattro o cinque soltanto fanno più di cento donne in tutto ma si pressa poco ma è disgustoso perché mai disgustoso ma perché è disgustoso a pensarci tutte quelle donne nude è sempre sempre la stessa cosa è disgustoso davvero più di cento donne urtato dal fatto che la moglie si mostrasse così mansueta prese quell'aria di superiorità di cui si valgono gli uomini per far capire alle donne di aver detto una sciocchezza questa poi è buffa davvero se è disgustoso avere cento donne è altrettanto disgustoso averne una o no niente affatto perché no perché una donna rappresenta una relazione è la prova di un amore che vi lega a lei mentre cento donne è sudiciume è vizio non capisco come un uomo possa strofinarsi a tutte quelle donnacce che sono sporche ma no sono pulitissime non possono essere pulite facendo il mestiere che fanno ma al contrario è proprio a causa del loro mestiere che sono pulite oh vergogna quando si pensa che il giorno prima lo facevano con un altro è ignobile non è più ignobile che bere in questo bicchiere in cui ha bevuto chissà chi stamattina e che è stato lavato molto meno sì ne è certa oh taci mi fai schifo ma allora perché mi domandi se ho avuto delle amanti dimmi le tue amanti erano tutte delle prostitute tutte e cento ma no ma no e che cos'erano allora ma delle attrici delle piccole operaie qualche signora quante signore sei soltanto sei sì erano belle ma sì più belle delle donnacce no quali preferivi tu quelle là o le signore per bene quelle là oh sei uno sporcaccione e perché perché non apprezzo i dilettanti che orrore sei abominevole sai e dimmi ti divertiva passare così dall'una all'altra ma certo molto molto che cosa ti divertiva non si somigliano tutte ma no le donne non si somigliano nemmeno per sogno in nulla in nulla che cosa strana e che hanno di differente ma tutto il corpo certo il corpo il corpo tutto intero il corpo tutto intero e poi che altro ma la maniera di di baciare di parlare di dire le minime cose ah ed è molto divertente cambiare ma certo e anche gli uomini sono diversi questo non lo so non lo sai no ci ho pensato ma non ho provato debbono essere diversi sì senza dubbio è resta pensierosa con il bicchiere di champagne in mano era pieno lo beve tutto d'un fiato poi posatolo sulla tavola gettò le braccia al collo del marito mormorandogli sulla bocca oh mio caro come ti amo lui la ferrò con un abbraccio appassionato un cameriere che stava entrando indietreggiò rinchiudendo la porta e il servizio fu interrotto per cinque minuti quando ricomparve il padrone del locale con l'aria seria e compunta portando la frutta lei teneva di nuovo il bicchiere tra le dita e guardando nel fondo del liquido giallo e trasparente come per cercarvi cose sconosciute e vagheggiate mormorava con voce trasognata oh sì certo che deve essere divertente grazie a tutti